Ciao a tutti e benvenuti a questa edizione speciale della televisione web dedicata alle amministrative di Milano. Finalmente siamo giunti alla serata conclusiva di una campagna elettorale che si è svolta negli ultimi mesi e che ci ha visti i protagonisti con numerosi eventi, iniziative che abbiamo promosso appunto nelle scorse settimane e questa sera a partire dalle ore 23 ci sarà lo spoglio in diretta per i candidati che si sono appunto candidati per diventare il nuovo sindaco di Milano. Ricordiamo che a questa tornata elettorale hanno partecipato 9 candidati sindaci di cui i più importanti Beppe Sala per il centrosinistra, Stefano Parisi per il centrodestra e Gianluca Corrado per il Movimento 5 Stelle. Abbiamo 9 partiti che appunto si sfideranno questa sera, noi possiamo già cominciare a dare un primo dato ufficiale che è quello relativo alle 19, il 42% dei cittadini milanesi sono già andati alle urne. Aspetteremo le ore 23 per poter avere dei dati definitivi su quanti saranno i cittadini che sono andati a votare. Io nel frattempo vi spiego che questa sera ovviamente avremo compagnia, avremo tante telefonate con giornalisti e politici che ci diranno la loro opinione riguardante la campagna elettorale che si è svolta in questi mesi e anche rispetto a quale potrebbe essere il vincitore. Molti dicono Sala, qualcuno dice Parisi, c'è chi dice che anche Corrado possa riuscire a raggiungere il ballottaggio, questo si vedrà. Le cose sostanzialmente sono due, da una parte si potrà già sapere questa sera chi vincerà, appunto che diventerà il nuovo sindaco della città metropolitana solo ed esclusivamente se il candidato raggiungerà il 50 più uno dei voti dei votanti. La seconda alternativa invece che è quella più probabile è che si vada al ballottaggio tra i due esponenti che prenderanno più voti rispetto agli altri. In questo caso dovremo attendere tra 15 giorni per scoprire chi prenderà l'eredità di Giuliano Pisapia. I temi sono tanti, ne discuteremo in questa lunga serata che ci aspetta tutti insieme, parleremo di mobilità, di quello che i vari partiti politici hanno promosso a livello di Ecopass, di Area C, i famosi scali ferroviari, poi passare all'Expo Gate, questa struttura che si trova dinanzi al Castello Sforzesco e che molti vorrebbero non vederla più, molti vorrebbero abbatterla come un monumento che stona all'interno di quel panorama. Parleremo poi delle case popolari che è un dibattito che è molto acceso all'interno del centro-sinistra, il famoso progetto che portava avanti Maiorino durante le primarie, quello delle case zero e poi parleremo anche di immigrazione perché Milano come si sa è anche una delle migliori città italiane per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi che scappano dalle guerre. Io vi ricordo anche che sia sui nostri canali social, quindi tramite chat su Facebook o tramite i commenti, voi potete scrivere quello che volete, noi vi risponderemo, curiosità sui candidati, quali liste sono effettivamente in corsa, quali sono gli aggiornamenti, noi siamo qui a disposizione, risponderemo a tutte le vostre chiamate, a tutti i vostri messaggi, basta scriverci su Facebook. Direi che per il momento noi possiamo lasciarci qui, ci vediamo tra pochissimo perché cominciamo questa nottata insieme per scoprire insieme a noi chi sarà il nuovo sindaco della città metropolitana di Milano.